un caro saluto un caro saluto a tutti da diego fusaro un caro saluto a tutti gli amici a tutte le amiche a tutti i nemici a tutte le nemiche che si stanno collegando aspettiamo ancora un istante prima di iniziare a discutere attendiamo che si colleghino un po di persone prima di sviluppare alcuni ragionamenti come sempre qui insieme a voi in queste nostre dirette un caro saluto dunque a tutti coloro i quali si stanno collegando per la nostra diretta che va in onda su tutte le nostre reti sociali quindi su facebook su instagram su youtube su tutti i nostri canali social un caro saluto a tutti e grazie per essere qui con noi vi ricordo che se ritenete utile ciò che facciamo potete condividere questa diretta di modo che circoli il più possibile il sapere controcorrente grazie a tutti quelli che si stanno collegando grazie a chi ci supporta molti mi chiedono se è possibile dare un sostegno al nostro gruppo pugnace di lavoro potete farlo senz'altro prendendo i badge di sostegno su instagram oppure prendendo le stelline su facebook ancora abbonandovi alla pagina facebook dove c'è il cuoricino verde la scritta diventa sostenitore o ancora trovate il link anzi il collegamento meglio in italiano in descrizione www.filosofico.net slash sosteneteci liberi di sapere di far sapere ripeto www.filosofico.net slash sosteneteci un caro saluto a tutti un caro saluto a tutti proviamo subito a entrare in medias res purtroppo come dice il titolo di questa nostra diretta serotina non andrà tutto bene l'abbiamo inteso già da tempo forse qualcuno ebbe il le avvisaglie del fatto che non sarebbe tutto andato bene quando nel già nel marzo 2020 comparve questa formula demenziale dell'andrà tutto bene intanto ne approfitto per fare qualche saluto bartolozzi silvia raffaele saraceni un caro saluto a ciro anche un caro saluto grazie per essere qui con noi un caro saluto a tutti non posso salutare tutti ma come se avessi salutato tutti vi ringrazio allora non andrà tutto bene essenzialmente perché avete capito che la guerra non dura breve tempo anzi sembra che sia anch'essa parte integrante di una nuova normalità la nato non vuole in alcun modo che si risolva la situazione anzi vedete che adesso c'è un un incontro della nato in spagna la spagna tra l'altro che un paese è arrivato relativamente tardi nella nato negli anni 80 a differenza di quelli che da subito aderirono voi sapete che la nato nacque nel 1949 con una funzione che si diceva essere di tipo difensivo rispetto all'unione sovietica ma in realtà era una funzione squisitamente imperialistica quella della nato tant'è che è venuta meno l'unione sovietica berlino 89 seguenti la nato è rimasta più che mai operativa più che mai vigorosa e più che mai imperialistica come abbiamo detto più volte la nato non essendo altro se non il braccio armato dell'imperialismo statunitense ecco adesso si raduna giusto appunto a in spagna per decidere il da farsi in particolare per impedire che l'ucraina venga sconfitta del resto avete capito non è nell'interesse della nato che la guerra finisca anzi la nato sta facendo di tutto per impedire che questa guerra finisca del resto avete visto che stanno continuando con solerzi a mandare armi all'ucraina il cosiddetto governo dei migliori mandarle armi significa fare in modo che la guerra prosegua questo è il punto fondamentale stanno facendo di tutto affinché la guerra prosegua laddove invece sarebbe nell'interesse di tutti credo ad operarsi per porre fine a questa guerra questa guerra che peraltro contrariamente a come viene sempre presentata non è la guerra che putin ha dichiarato all'ucraina quasi fosse impazzito è una guerra che ha delle radici molto profonde purtroppo radicate essenzialmente nell'imperialismo della nato a partire dagli anni 90 basta vedere le cartine degli anni 90 e odierne per capire che la nato si è espansa di fatto accerchiando la russia e questa è la vera causa di questa guerra e lo dice una persona il sottoscritto che non ha altro obiettivo se non la pace quindi io sono contro la guerra sono a favore della pace sono a favore della neutralità dell'italia sono a favore del pieno rispetto della nostra carta costituzionale però vedete che si sta facendo di tutto affinché la guerra non trovi non trovi una soluzione rivolta a un a una pace anzi sembra che si stiano adoperando per fare in modo che la guerra non finisca mai purtroppo e la nato è responsabile in questo sul fronte invece della questione epidemica come sa chi ha letto il mio libro golpe globale capitalismo terapeutico il grande reset edito da pm essenzialmente l'emergenza epidemica stessa non finirà e qui non voglio adesso aprire per l'ennesima volta una lunga parentesi sull'emergenza come ars regendi come metodo di governo chi ha letto il mio libro golpe globale o chi ha letto odio la resilienza lo sa molto bene l'emergenza è un metodo di governo funzionale al neoliberismo e quindi non stupisce che le emergenze non finiscano e anzi senza che nessuna di esse si risolva ogni volta ne subentrano di nuove ad esempio l'emergenza siccità per rimanere fermi ai nostri giorni quando scrissi il libro golpe globale capitalismo terapeutico e grande reset che uscì nel settembre 2021 parlavo delle nuove emergenze che sarebbero arrivate pensavo a quella climatica quella energetica non potevo prevedere in effetti quella idrica quella della siccità che in effetti è arrivata recentemente che chissà quali e quanti lutti ancora ci porterà leggevo sul fatto quotidiano in questi giorni un articolo a messner l'alpinista che diceva che in futuro secondo lui ci saranno anche le guerre per l'acqua e che un po alla volta la situazione peggiorerà interessante questo discorso perché ci permette di capire a che l'emergenza va peggiorando sempre b che ci sono intrecci fra le diverse emergenze quindi l'emergenza siccità si intreccia con l'emergenza bellica perché ci dice messner ci saranno le guerre per l'acqua e chissà quali e quante altre emergenze ancora dovremo nostro malgrado sperimentare grazie intanto a tutti quelli che stanno intervenendo grazie a chi sta organizzando anche incontri con il sottoscritto ringrazio ad esempio gli amici di lavagna in provincia di genova dove sarò domani sera domani 30 giugno a presentare il mio libro odio la resilienza cavi di lavagna ore 19 poi ringrazio gli amici della versiglia in particolare daniela per aver organizzato una bellissima serata in versiglia pietra santa il 3 di luglio ci vediamo quindi anche in versiglia il 3 luglio poi sarò di nuovo in liguria in provincia di imperia diano marina il 7 luglio per una presentazione del mio libro odio la resilienza e poi ancora ci vedremo in provincia di reggio emilia il 9 luglio quindi vedete tantissimi incontri poi molti altri circa i quali vi aggiornerò in itinere grazie intanto a tutti quelli che stanno leggendo i miei libri come golpe globale o anche odio la resilienza grazie a chi sta organizzando presentazioni dei miei libri mi piace molto presentarli e poter discutere con voi dei temi racchiusi in essi vi ricordo anche che parte poi a ottobre un nuovo corso online aperto a tutti che si chiama le parole della politica se vi interessa volete iscrivervi a questo corso da me tenuto online su piattaforma digitale potete andare su www.filosofico.net e trovate lì sulla pagina principale tutti i dettagli c'è anche la mia mail oltretutto se volete avere ulteriori delucidazioni grazie intanto a tutti quelli che si stanno collegando vedete la situazione procede in una direzione non propriamente entusiasmante sia sul fronte bellico sia su quello epidemico e noi proviamo nel nostro piccolo sempre a ragionare su questi temi che riteniamo di un certo rilievo grazie dunque a tutti quelli che ci stanno seguendo se ritenete utile ciò che stiamo dicendo diffondete la diretta qual è il miglior libro di quello che è scritto che riguarda la situazione recente diego fusaro beh allora caro massimo mi permetto di suggerire la lettura di due libri insieme il primo si intitola odio la resilienza edito da rizzoli è un tentativo di smascherare questa categoria di resilienza che piace tanto al lessico padronale a mario draghi a claus wab cosa vuol dire resilienza vuol dire accettare accettare di fatto tutto in silenzio questo è la resilienza e questo è il motivo per cui piace tanto ai padroni del discorso quindi odio la resilienza e poi consiglio la lettura di golpe globale capitalismo terapeutico e grande reset edito in questo caso da pm che è la mia interpretazione dell'emergenza come metodo di governo in particolare con attenzione alla emergenza epidemica ma con un riferimento più in generale all'emergenza come metodo di governo grazie intanto a tutti quelli che stanno intervenendo grazie a chi sta prendendo i badge su instagram a chi sta prendendo le stelline su facebook o si sta abbonando alla pagina facebook a chi manda donazioni da www.filosofico.net slash sosteneteci trovate il collegamento in descrizione video vi ringrazio per essere presenti anche a quest'ora della notte ne approfitto per fare una breve diretta e per salutare tutti gli amici collegati ciao carlo doni che piacere ritrovarti qui speriamo di rivederci presto a firenze nella splendida città medici alla città anche di ficino quindi speriamo di rivederci nella splendida firenze di dante oltretutto ma firenze citando alcuni spiriti magni se ne dimenticano sempre altri tali e tanti sono stati i giganti della nostra cultura a firenze grazie a tutti quelli che si stanno collegando grazie a tutti condividete questa diretta ci aggiorniamo presto e vi ricordo che potete seguirmi anche sul mio blog www.diego fusaro.com ripeto www.diego fusaro.com a verona diego beh caro leonardo potete organizzare anche a verona senz'altro andate su www.diego fusaro.com c'è la mia email mi potete invitare vengo con piacere anche a verona naturalmente la splendida città verona grazie a tutti ma l'italia è tutta splendida naturalmente grazie a tutti quelli che si stanno collegando siete tantissimi e mi fa molto piacere molti mi chiedono del quadro alle mie spalle il quadro alle mie spalle l'ha fatto mio papà dario fusaro che è un artista fotografo e anche pittore dario fusaro vedete anche il suo sito dario fusaro.com se volete fare un giro anche sul sito di mio papà che saluto qualora fosse collegato anche se non penso lo sia ma in ogni caso un pensiero al papà è sempre doveroso per noi almeno che abbiamo ancora a cuore la figura del padre che sembra oggi essere sotto accuse invece del resto viviamo in una società senza padre una società in cui senza il padre tutto deve essere permesso il padre il simbolo della legge tolto il padre non c'è più la legge ma c'è solo il desiderio capriccioso e senza limiti ecco perché è così importante il padre voi sapete che per i greci era tal punto importante che quando chiedevano a un greco chi sei tu rispondeva sono achille figlio di peleo sono ulisse figlio di laerte il patronimico il laerziade odissio cioè il figlio di laerte il pelì di achille il figlio di peleo quindi vedete l'importanza del padre no e noi invece abbiamo completamente cancellato la figura del padre pensando appunto che ci siano solo figli capricciosi che hanno desideri smodati ma questo è un altro discorso chi fosse interessato l'ho affrontato questo discorso in un altro mio libro che si chiama il nuovo ordine erotico elogio dell'amore della famiglia edito da rizzoli anch'esso grazie a tutti vi auguro una buona serata se potete diffondete questa diretta sostenete il sapere libero con le stelline su facebook i badge su instagram e le donazioni da filosofico.net slash sosteneteci un caro saluto a tutti buona serata davvero da diego fusaro